Hello, come va? Mi sa che è arrivato il momento di giocare a carte scoperte. Io sono stufa di giocare ed è giusto che tu sappia realmente come stanno le cose. Dark Out sono io, ti ho fatto venire qui perché ho la prova che tuo figlio è viva e chissà potrei essere anche io considerando la mia data di nascita e il modo in cui mia madre mi ha abbandonata. Lo so che sembra tutto assurdo ma io non mi invento cazzate. Ascolta questa registrazione, non è chiarissima se no avrei già beccato lo stronzo. Ma senti bene cosa dice? Oggi l'ho vista a ballare, non mi importa se nessuno sospetta. Sì ma io non sto tranquillo e cosa succede se qualcuno scopre che la figlia vediamo appunti. È figa.